Il primo tema in campagna è quello legato all'occupazione. Lo ricordiamo, la campagna è la terza regione italiana per disoccupati, è superata soltanto da Calabria e Sicilia. Ci sono vertenze molto note, sono quelle relative soprattutto a Whirlpool, magari di cui parliamo tutti i giorni, ma ce ne sono altre, a Lenia, la grande distribuzione. In particolare ci sono tre dati drammatici, 21,7, la disoccupazione totale, quella giovanile viaggia sopra il 50%, il record nazionale di disoccupati di lungo corso. Cerambino, Movimento 5 Stelle, voi come al solito parlate di reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza regionale. Cosa è? A chi è destinato? Quanto costa anche? Sì, consideriamo che in campagna il 23%, stando alle ultime statistiche di famiglie, vive sotto la soia di povertà. È un dato che io confermo assolutamente, perché ogni giorno vado nei mercati, incontro le persone e rilevo una situazione anche più drammatica di quella che io immaginassi. Ci sono oggi 55 anni che tornano a vivere con i propri genitori novantenni, perché l'unico reddito certo è la pensione dei genitori. Questa è la situazione a cui dobbiamo dare risposta. Intanto che appunto verrà approvato il provvedimento nazionale del reddito di cittadinanza, lo attiveremo a livello regionale, contiamo di dare 500 euro al mese alle 460 mila famiglie povere italiane. Costa 230 milioni di euro all'anno questo provvedimento, è l'1% delle entrate del bilancio della regione Campania. Quindi si tratta di una volontà politica a destinare semplicemente l'1% delle entrate al reddito di cittadinanza. Le coperture quindi ci sono, le possiamo trovare. Crediamo che sia un provvedimento che restituisce dignità, ma anche libertà, perché in una regione dove il 23% delle famiglie sono povere, sfido chiunque a poter dire che poi il voto di scambio non è una realtà e che si possa scegliere una classe dirigente veramente valida e libera. Grazie, siete sicuri? Mettereste la mano sul fuoco che non c'è nessun impresentabile anche nelle vostre liste? E invece delle altre liste? Volete fare i nomi degli impresentabili? Vogliamo non essere omertosi? Vogliamo dire nome e cognome? Chi non si può votare è perché? Ciarambino ha un minuto e trenta. Sì, allora io posso dire con una certezza assoluta che nelle liste del Movimento 5 Stelle non c'è nessun impresentabile, perché noi ci siamo dati delle regole che sono dei provvedimenti anticorruzione prima che diventino una legge dello Stato. Per esempio nel Movimento 5 Stelle per potersi candidare bisogna presentare il casellario giudiziale e il certificato di carichi pendenti. Questo vuol dire portare persone oneste all'interno delle istituzioni. E questo è un criterio che va ben oltre anche il criterio garantista dell'ordinamento giudiziario italiano dove si è innocente fino al terzo grado di giudizio. Paolo Borsellino invitava i partiti laddove ci fosse un sospetto, un'ombra che gravava su uno dei personaggi che si candidava ad entrare all'interno delle istituzioni e di tenerlo da parte. Perché le istituzioni vanno onorate con persone degne non solo perché portare persone oneste all'interno delle istituzioni vuol dire portare persone che devono gestire soldi pubblici e che quindi devono farlo esclusivamente nell'interesse della collettività. Devono perseguire il bene comune, devono essere liberi di poterlo fare. Ora, i nomi degli impresentabili, io la lista ce l'ho e li potrei leggere tutti, ma è una lista veramente infinita di destra e di sinistra perché si sta parlando degli impresentabili. C'è qualcuno che secondo lei è clamorosamente impresentabile e dovrebbe ritirarsi dalla corsa? Guardi, veramente le assicurazioni, avevo qui i nomi, non riesco a trovarli, ma faccio fatica a sceglierne uno. Si parla solo degli impresentabili di De Luca, io parlerei anche degli impresentabili di Caldoro che come Presidente della Regione Campania ha scelto di non costituirsi parte civile in un giudizio dove già 15 sono stati rinviati a giudizio per rimborsopoli e alcuni di questi ce li siamo ritrovati adesso in lista non essendosi lui costituito parte civile. E domani ci saranno in Senato. Io considero scellerato chi è impresentabile, chi essendo condannato in primo grado per abuso d'ufficio è decretato da una sentenza del Tar che decadrà il secondo dopo la sua elezione a Presidente della Regione che non abbia la dignità di fare un passo indietro e che porterà la Regione Campania nel caos nel caso in cui dovesse scelleratamente essere eletto. Costui si erge anche a moralizzatore e si permette di chiamare impresentabili gli altri, uno che ha nominato il proprio capo staff come project manager non è un reato linguistico, ci sono centinaia di pagine di una sentenza, uno che definisce una legge dello Stato demenziale. Grazie. Io guadagno 1450 euro netti al mese, sono un'impiegata, posseggo una Mercedes classe A acquistata usata che ha dieci anni, null'altro. Per quanto riguarda la nostra campagna elettorale c'è da dire che noi non prendiamo rimborsi elettorali, non tocchiamo un euro di soldi pubblici. La nostra raccolta fondi si basa sul finanziamento volontario, microfinanziamenti dei cittadini che credono nel nostro progetto. Ad oggi abbiamo raccolto 15.000 euro, in media 10 euro a donazione. Ci siamo finanziati con uno straordinario evento incentrato sulla pizza napoletana dove i nostri parlamentari erano camerieri. In pratica servivano il popolo italiano, come fanno ogni giorno in Parlamento. Abbiamo messo all'asta su ebay un presepe napoletano. Un diritto a Rambino. Sì, sicuramente c'è il tema della sicurezza che va affrontato come magari i prefetti avrebbero dovuto fare e non hanno fatto, creando un coordinamento tra le forze di polizia municipale che sono migliaia di uomini sparsi sui territori che hanno le competenze per poter fare anche controllo e sorveglianza del territorio. Ma io mi faccio anche una domanda. Perché è accaduto una cosa del genere? Certamente è il gesto di un folle, è un gesto di un folle che però si appalesa all'interno di una periferia napoletana, un'area di degrado dove la politica sa solo costruire biodigestori anaerobici, dove promette università e non le realizza, dove non c'è un trasporto pubblico. Bisogna ricostruire la comunità a partire dalle periferie. Volevo chiedere alla Ciarambino, sul suo sito lei risulta la candidata a presidente della regione ma non risulta la candidata come capolista a Napoli per entrare in consiglio regionale. Le volevo chiedere, ma forse le risulta un po' difficoltoso spiegare al suo elettorato che si è preso questo paracadute per poter entrare comunque ad occupare una poltrona a Palazzo Santa Lucia nel momento in cui verrà sconfitta come candidata a presidente. E poi lei è dipendente di Equitalia, per noi non è un problema, ma perché l'ho messo all'interno della sua biografia? Grazie. Grazie. Eh sì, ce la racconta anche questa cosa di Equitalia, Ciarambino. Allora, anzitutto parlare di poltrone col Movimento 5 Stelle è del tutto improprio, tenendo conto che noi dopo due mandati comunque ce ne torniamo a casa. Quindi io non ho nessuna volontà di andare a occupare una poltrone, è una questione di coerenza. Lei però si è candidata anche per il Parlamento europeo, è bene dirlo, giusto? Sì, sì, io sono stata candidata a maggio per il Parlamento europeo. Adesso sono stata scelta da altri cittadini ad essere il candidato presidente. Non occupiamo poltrone. La scelta di candidarsi come capolista è una scelta di coerenza. Perché mentre De Luca, cinque anni fa, da presidente di regione, essendo entrato in consiglio come consigliere regionale, è andato via, perché evidentemente non era una poltrona troppo prestigiosa per lui, noi rispettiamo il nostro mandato e quindi se io dovessi avere l'onore di entrare come consigliere regionale farò cinque anni di mandato onorando la fiducia ricevuta degli elettori. Certo, lavoro in Equitalia è un spirito critico? Lavoro in Equitalia, sono un'impiegata. Credo che questo attessi grande gratuità da parte mia. È una notizia nota dappertutto, la ribadisco continuamente alla stampa. Crediamo che il sistema della discussione vada cambiato tutelando i posti di lavoro dei dipendenti. Grazie, adesso è Esposito a ricevere proprio la domanda dal Movimento 5 Stelle e dai support della Ciarambino. Roberto. Eccoci di nuovo qua, nome, età, professione. Salve, mi chiamo Dario De Falco, 30 anni, sono un lavoratore autonomo e sono candidato sindaco per Pomigliano d'Arco per il Movimento 5 Stelle. E così ha risposto alla domanda che le avrei fatto. Allora, 30 secondi di tempo per la sua domanda a Esposito. Sì, io volevo chiedere a Esposito come mai 5 anni fa appoggiò De Luca presidente nel 2010 da presidente della regione poi sconfitto oggi è contro. In ogni caso mi fa piacere che sia contro De Luca perché sarebbe davvero impossibile stare con De Luca in questa tornata per gli impresentabili. Tra gli impresentabili io ricordo il mio conterraneo Tommaso Barbato che sputò all'indirizzo del suo collega Mastelliano di Mastella del partito di Mastella dell'Udeur per aver votato la fiducia a Prodi lo stesso che oggi è inquisito per voto di scambio per aver ricevuto alcuni posti di lavoro in cambio dell'appoggio alla presidenza delle elezioni a Giulio Tremonti presidente del candidato presidente del Consiglio la domanda è esposito come l'ha fatta l'inizio? Io non l'ho capita la domanda sinceramente perché appoggiavo De Luca 5 anni fa? Ecco, perché appoggiavo De Luca 5 anni fa? 5 anni fa non era ancora stato pubblicato Terroni il meridionalismo era ancora agli inizi e mi sembrava che Vincenzo De Luca fosse un'ottima possibilità per questa regione l'ho appoggiato con fiducia lui disse non sono stato eletto ma farò opposizione durissima cambierà tutto all'epoca lo slogan era cambierà tutto anche nel fare opposizione e dopo 100 giorni si è dimesso Ciarambino se non mi sbaglio lei parla di abolizione del ticket sanitario ma questo quanto costerebbe? Guardi costerebbe all'incirca 240 milioni di euro ma il problema non è il costo perché fino ad oggi se la sanità sta in questo stato la sanità campana è proprio perché il signor Caldoro io lo chiamo simpaticamente il ragionier Caldoro piuttosto che occuparsi di garantire un diritto ha tagliato in maniera indiscriminata ha considerato la sanità un costo e oggi in campagna si muore sulla barella nel corridoio di un ospedale vicino a una finestra aperta di broncopolmonite se questa è una sanità che funziona io lo chiedo ai cittadini campani non si è efficientato consideri questo in campagna abbiamo le liste d'attesa la maglia nera per le liste d'attesa questo determina migrazione sanitaria vuol dire che un cittadino campano si deve andare a curare fuori regione questa cosa ha avuto un costo nel 2013 di 270 milioni di euro a proposito dell'assessore alla sanità se non mi sbaglio lei dice che quello di De Luca lo sceglierà De Mita e invece il vostro lo sceglierete sul web il nostro lo sceglieranno i cittadini nella maniera più assoluta lo sceglieremo secondo criteri meritocratici anzi invito tutti i cittadini che vogliono partecipare alla rivoluzione della meritocrazia e della trasparenza a inviare il loro curriculum perché per la prima volta avremo persone competenti e libere vorrei un suo messaggio agli uomini di Gomorra vorrei un suo messaggio al clan di Laura ai Casalesi ai Giunta a chi vorrei agli scissionisti cosa gli dice senza abbassare gli occhi gli dico che noi vogliamo portare l'onestà nella nostra regione vogliamo riprenderci la nostra regione e cacciare fuori Gomorra dalla campagna perché la campagna non è solo Gomorra io ho vissuto al nord per alcuni anni e mi sono sentita addosso il marchio di essere campana quasi a dovermene vergognare la campagna è fatta di persone per bene di persone oneste che mi auguro sceglieranno persone altrettanto per bene altrettanto oneste da portare all'interno delle istituzioni che terranno fuori questa gentaglia che oggi lucra e utilizza soldi pubblici oggi la camorra ha la giacca e la cravatta entra nella gestione degli appalti di un ospedale pubblico non lo permetteremo il piano del Movimento 5 Stelle per la terra dei fuochi anzitutto io voglio fare chiarezza perché sia De Luca che Vozza fanno qualcosa di molto grave confondono il tema dei rifiuti solidi urbani col tema della terra dei fuochi si tratta di rifiuti speciali sversamenti illegali di aziende e di industrie spesso a nero che dovrebbero essere smaltiti secondo filiere certificate la nostra idea per la terra dei fuochi passa per la videosorveglianza anche con droni per le bonifiche del territorio per gli screening della popolazione per la certificazione sorveglianza anche con droni videosorveglianza anche con droni dall'alto bonifiche screening della popolazione registro tumori ma anche un osservatorio sul lavoro nero perché chi sversa sono aziende che fanno lavoro sommerso e che non possono smaltire legalmente detto ciò bloccheremo il piano di Caldoro che spende 24 milioni di euro per fare spot pubblicitari sulla terra dei fuochi 4 milioni e mezzo alle società sportive e il piano regionale delle bonifiche è realizzato per lo 0,2% non lo dico io lo dice Lega Ambiente se questo è il modo di affrontare il dramma e il disastro ambientale bisogna fare chiarezza le certificazioni sono fondamentali perché dobbiamo far ripartire la nostra agricoltura e poter portare sul mercato estero le straordinarie eccellenze agroalimentari campane Ciarambino se non mi sbaglio la sua ambizione mi sembra anche eccessiva è quella di arrivare fino alla gratuità del trasporto pubblico locale all'interno delle città campane per gli studenti è un provvedimento che è piaciuto tanto a De Luca al punto di esserselo copiato noi l'abbiamo presentato il 7 di marzo la differenza sta nella credibilità noi crediamo in questo provvedimento e abbiamo la medaglia della credibilità perché nei comuni dove governiamo per esempio a Ragusa che non è un comune del Trentino Alto Adige ma dell'estremo sud è un provvedimento che abbiamo già realizzato De Luca in 20 anni da sindaco di Salerno il trasporto pubblico l'ha fatto pagare agli studenti è anche devastato il trasporto pubblico locale vediamo la condizione della CSTP salernitana detto ciò noi vogliamo comprare nuovi mezzi con i fondi europei autobus elettrici a metano risparmiamo 54 milioni di euro all'anno di carburante e li investiamo in servizio e la bambina effettivamente i finanziamenti per le borse di studio sono a zero in Campania e voi come Movimento 5 Stelle cosa volete fare? Assolutamente sì ho incontrato gli studenti che chiedono lo sblocco dei fondi per le borse di studio anche perché il paradosso è che la tassa regionale per il diritto allo studio è raddoppiata quindi gli studenti paga ma non gli vengono abbiamo inserito il provvedimento di sblocco di questi fondi di erogazione delle borse di studio perché in una regione come la Campania che ha il maggior numero di NIT di giovani che non sono né occupati né inseriti in un percorso formativo educativo bisogna assolutamente favorire l'accesso al diritto allo studio anche attraverso strumenti come questi così riparte il futuro della Campania Appello finale Ciarambino un minuto occhio alla telecamera prego il 31 di maggio scegliendo il Movimento 5 Stelle abbiamo la possibilità di fare della regione Campania il laboratorio dell'onestà io sono stanca di essere ricordata e di andare fuori regione di sentirmi addosso questo marchio per il fatto di essere campana voglio restituire alla mia gente la dignità voglio che recuperiamo l'orgoglio di essere un popolo straordinario quale siamo possiamo farlo portando all'interno della regione persone che sono dei cittadini che da anni lavorano sui territori che hanno sviluppato competenza nell'affrontare i problemi del territorio e che entrando in regione l'indomani della loro elezione non dovranno restituire nessun favore elettorale quindi avranno come unico interesse quello di mettersi a lavorare per il bene comune le nomine all'interno della regione all'interno delle partecipate le nomine di vertice della sanità saranno fatte secondo criteri di meritocrazia di trasparenza perché c'è bisogno di persone per bene competenti libere che utilizzino realmente i fondi pubblici per far ripartire la campagna io voglio che la campagna alzi la testa e torni a essere una terra di primati grazie grazie Ciarambino